Ultimi giorni a gubbio di consultazioni all'interno delle manicchie sul tema di un'edizione straordinaria della Festa dei Ceri, l'11 settembre. Sabato 19 e domenica 20, i ceraioli di San Giorgio e Sant'Antonio si ritroveranno nelle rispettive taverne, con orari 15-19 il sabato, 9-13 la domenica, per chiudere la raccolta di pareri da consegnare al sindaco Stirati la prossima settimana. I santubaldari non terranno invece questo ultimo passaggio, proseguendo gli incontri nelle singole manicchie. 11 settembre, pro e contro, prosegue il nostro giro di pareri a confronto. Favorevole, ovviamente non abbiamo, non ho la presunzione di sostituirmi a virologi o a quelle che saranno le leggi e le regolamentazioni, però favorevole perché veniamo da due anni straordinari, eccezionali per la comunità, per la nazione e per il mondo e non vedo fuori luogo il poter svolgere una festa in una data che non sia quella del 15 maggio, quindi che sia una data ovviamente diversa. Io nel rispetto delle posizioni di tutti, ma sono fermamente contrario. La festa dei Ceri trae la sua unicità, veramente, la sua straordinarietà, da una commistione intima di fattori che non sono scindibili e sono fattori, come sappiamo tutti, religiosi, antropologici, storici, etnico-culturali. Se noi scindiamo questi fattori, costruiamo qualcosa che non è la festa dei Ceri. Tra questi fattori c'è il fatto proprio che la festa dei Ceri viene svolta in primavera, alla vigilia della ricorrenza, della morte del nostro patrono, e questo è l'aspetto religioso, ma anche nel momento del risveglio della natura, della città, nel momento in cui si cominciano a sentire i profumi del Monte Ingino dopo i rigori dell'inverno. Credo che sia superfluo, secondo me, chiedere agli Eugubini se vogliamo fare i Ceri, cioè siamo arrivati a un punto molto estremo, chiedere agli Eugubini se vogliamo fare i Ceri. Io credo che questo sia il gesto, la tradizione, il gesto storico che gli Eugubini usano per rendere omaggio al proprio patrono, a prescindere dal fatto che la festa sia il 15 maggio. Lo so da me che la festa è il 15 maggio, la festa dei Ceri è il 15 maggio, assolutamente. Lungi da me dire li facciamo l'11, poi l'anno dopo li facciamo il 20, no, assolutamente. Qui parliamo di un evento straordinario. In quanto tale io vorrei continuare a rendere omaggio al patrono, come ho sempre fatto, in una data diversa e non credo che sia un oltraggio al patrono. Ricordo che è una festa, gli antropologi sono concordi su questo, che ha origini pre-cristiane, antichissime. Addirittura nelle feste degli alberi che si svolgevano proprio in primavera, in ambito indoeuropeo, per celebrare la rinascita della natura dopo i rigori dell'inverno. Fare una festa in autunno fuori da questo contesto sarebbe assolutamente snaturante, a mio modo di vedere. Io ricordo sempre le parole di Guido Baldangeletti in quel bellissimo disco, prima poi musicassetta, che fu fatta negli anni 60 sulla festa dei Ceri e iniziava proprio così, il fresco chiarore dell'alba di maggio. Porto spesso come esempio quello di un quadro, no? Tu guardi una cornice, per quanto bella sia, intarziata, preziosa, poi alla fine però il soggetto principale è uno, sono i Ceri, in questo caso sono i Ceri, il soggetto del quadro sono i Ceri. Ci manca il contorno? Ovviamente ci manca il contorno, ci manca la parte godereccia della festa, ci manca la parte, permettetemi di dirlo, anche superflua della festa. Partiamo però dall'essenziale, i Ceri. Cioè per fare la festa dei Ceri abbiamo bisogno, in maniera molto semplice, dei Ceri. Che non credo proprio che la festa dei Ceri si potrà svolgere l'11 settembre, comunque senza limitazioni, cioè si potrà svolgere come l'abbiamo svolta fino al 2019. Pertanto io credo che se si svolgerà avrà pesanti limitazioni e attenzione, perché se le limitazioni vengono introdotte, poi verranno introdotte sempre, cioè se faccio un'ipotesi, un'iperbole, se si accorgono che in piazza grande ci possono stare 2000 persone durante l'alzata, non sarà nell'11 settembre 2021, 2000 persone, poi ci saranno sempre 2000 persone. Se si accorgono che nel Palazzo dei Consoli, prima dell'alzata, ci possono entrare 20 persone per cielo, sarà sempre così. Attenzione a voler fare per forza la festa nonostante le limitazioni, perché andiamo incontro, secondo me, a limitazioni forti anche per il futuro. Se rischiamo di non vedere più la nostra festa come l'abbiamo vissuta, invece la voglio vivere come l'abbiamo vissuta, fino al 2019, quando questo sarà possibile. Se non è possibile, vuol dire che non è la festa dei Ceri. La festa dei Ceri è arrivata ai tempi nostri perché ha saputo adattarsi ad ogni situazione. È vero, non vorrei che diventassimo noi il vincolo di questa mutazione. Visto l'eccezionalità della cosa, come in passato la festa è mutata, la corsa è mutata, mi piacerebbe vedere una mutazione figlia dei nostri tempi, che purtroppo, ripeto, sono stati tempi duri.